Marco Guzzi, dalla fine all'inizio, saggi apocalittici. Guardare con chiarezza dentro la fine. Credo che mai, come in questi ultimi anni, abbiamo avuto in Occidente, in particolare in Italia, la triste sensazione di un mondo e di un'intera cultura che si vanno sbriciolando, corrompendo, riducendo a nulla, a insipido omogeneizzato. C'è qualcosa di apocalittico nei nostri giorni, di ultimativo, di finale. Ma dobbiamo ricordare, come ci insegna l'antropologo francese René Girard, che l'apocalisse non annuncia la fine del mondo, ma fonda una speranza. Ecco, che vuol dire fonda una speranza? Cioè noi siamo in un'epoca di disperazione, in cui la sofferenza psichica ha raggiunto livelli altissimi, perché il nostro io, l'io umano, ha raggiunto una fase terminale. Non possiamo andare avanti così. Come esseri umani stiamo preparandoci all'estinzione, perché il nostro tipo di io bellico, fondato sulla contrapposizione all'altro e al mondo, la nostra identità si fonda per contrapposizione. Io esisto, io esisto, e sono tanto più forte nella mia identità, quanto più mi contrappongo all'altro. Ecco, questa si chiama o al mondo, o a Dio, o a quello che volete, cioè è la separazione di ogni io da tutti gli altri. Ecco, non siamo nel modello in cui un io è collegato a un altro, che è collegato a un altro e così via, cioè in una danza collettiva che ci fa comunità, che ci fa popolo comunità, che ci fa una sola cosa col genere umano e con tutti i viventi della terra. No, questa è una conquista che dobbiamo ancora fare. È una conquista spirituale, cioè è frutto dell'intelligenza spirituale, cioè del più alto forma di intelligenza che esista. Noi non ci troviamo qua, cioè non ci troviamo nella nostra anima, ci troviamo in zone molto più primitive, arcaiche, della nostra potenzialità. Il pieno sviluppo della persona umana è ben lontana da essersi compiuta. Pieno sviluppo che è previsto nell'articolo 3 della nostra Costituzione per poter fondare una democrazia costituzionale, cioè in cui appunto i vari io sono io relazionali. Io sono fatto di tutte le relazioni in cui sono implicato e dall'intensità e dalla profondità e dall'armonia di queste relazioni discende la pienezza della vita. Questo è ciò che viene detto in lavori preparatori dell'Assemblea Costituente a proprio proposito dell'articolo 3 secondo comma e queste affermazioni vengono dall'Aledio Basso che ormai abbiamo citato tante volte. Ecco, noi ci troviamo ancora qui dentro invece questo passaggio previsto in Costituzione, previsto nei Vangeli, previsto dalle tradizioni spirituali di tutto il mondo, dalle tradizioni sapienziali, dalle grandi tradizioni filosofiche, non siamo riusciti ancora a compierlo. In realtà nell'umanità questo passaggio è stato già compiuto dalle migliori menti, dai maestri dell'umanità. tutti avevano compreso che noi non siamo esseri completi, finiti, cioè realizzati, non siamo esseri realizzati, l'uomo non si realizza, la realizzazione, la realizzazione della sua umanità presuppone, a differenza di tutti gli altri animali, presuppone un lavoro, un lavoro per fare cosa? Per conoscere se stesso. Se stesso. Nozzi se automo, dice l'oracolo di Delphi, ma questo lavoro è stato per il momento compiuto da una minoranza dell'umanità un po' in tutti i tempi. Ecco, adesso riprendo il testo di Gutzi. Analizzare senza attenuazioni o addolcimenti i caratteri terminali di tanti aspetti della nostra civiltà è cioè l'unico presupposto serio per poter sperare in un vero ricominciamento e per disporci di conseguenza a operare in una prospettiva di radicale rigenerazione. Ma è proprio questo lavoro analitico, questo sguardo penetrante, critico insieme pieno di speranze, critico insieme pieno di speranze, dentro le fibre caotiche del presente, che ci manca, che ci manca. Questo pensiero critico insieme pieno di speranza che vuole operare in una prospettiva di radicale rigenerazione è quello che ci manca, critico insieme pieno di speranza. E qui c'è una descrizione che Guzzi fa della società di oggi, del pensiero di oggi, che è appunto la grande poeta, insomma. Una sorta di pappa mentale, linguaggio poetico, il filosofo e il poeta si riuniscono. Una sorta di mappa mentale, di un blog universale, colo infatti ormai da tutti i televisori e i video e i computer e gli altoparlanti del mondo, come una melba uniforme e appunto sempre più omogenea, che a volte sa di palude stagnante e a volte sa proprio di fogna. Quindi una sorta di pappa mentale, che cola da tutti i televisori. L'esausto dibattito politico-economico, ossessivamente incentrato solo sul PIL, borse, percentuali, tassi, mercati, azioni, banche e truffe varie. E più sotto, l'ennesimo festival, festa, fiera, salone, baraccone, sagra della filosofia, matematica, libro, gastronomia, poesia, apicoltura, economia, francoboldi, arte, cinema, comunicazione. Comunicazione ormai immancabile. Castagne, spiritualità, piadina, letteratura, eccetera. E l'ennesima gara tra giovani asperianti, cantanti, ballerini, servi, veline, letterine, scimiotine, schiavettine, schiavi comunque, servi e serve, dei programmisti autori di Mediaset della Rai. Ecco, questa è una descrizione forte e quindi conclude, ci vuole una grande fede per non disperare in questa notte di nullificazione, di non pensiero americano e per non farsi avvelenare il cuore come la scimmia di Zaratustra. Bisogna insomma imparare a vedere, come dicevamo, in questo finire, in questo finire, l'apocalisse vuol dire finire anche la fine di tutto, ma anche la rivelazione, in questo finire un fine. Vedere in questo finire, questo chiudersi di un'epoca, l'epoca dell'io bellico, dell'io separato dall'altro, vedere una fine a questa epoca che è dal primo ordine d'umanità. Quindi saper vedere un fine nella fine, un escatone, appunto l'escatologia, uno scopo, addirittura i prodromi di un nuovo inizio. escatologia vuol dire direzione, vuol dire scopo, fine, punto dove si va a finire. Ecco. Questa in realtà è l'unica e l'ultima speranza. Sì, dice Marco Guzzi, ma chi lo fa, chi se ne occupa, chi pensa per fine e inizi, chi si impegna a discernere ciò che in questo finire va lasciato cadere. da ciò che invece va consegnato e anzi incrementato affinché le nuove sintesi umane possano avanzare. Qui comincio ad introdurre questo termine che poi sviluppa molto, un po' in molti libri, sintesi, nuove sintesi. Chi labbra oggi una visione politica escatologica? Ecco, chi lo fa? Manca quindi una nuova cultura escatologica, una nuova cultura occidentale cristiana che sappia pensare messianicamente i fini della fine, la direzione di questo sfinimento. Ecco, pensare seriamente, cioè escatologicamente questa fine non è affatto facile. in quanto significa confrontarsi con una completa ridefinizione dell'identità umana, ve l'ho detto qua, una completa ridefinizione dell'identità umana tra l'io bellico, separativo, l'io egoico e l'io animico connesso, l'io che vede il proprio pieno sviluppo nelle relazioni con gli altri. Quindi, pensare escatologicamente significa far emergere una nuova figurazione dell'essere umano proprio attraverso la dissoluzione di tutte le figure storiche precedenti. in altri termini intravedere proprio nella omogeneizzazione del frullato antropologico in atto, quello di oggi, la genesi, la nascita di un nuovo genere umano, finalmente unito, conscio di essere uno e unico. Possiamo dire che l'io bellico affonda le sue radici nella cultura del morente, cioè di quel tipo di umanità che sta finendo. Noi abbiamo bisogno invece di una cultura del nuovo io, quindi di una cultura viva. Ecco, prendiamo le parole di Marco Guzzi. La cultura quando è viva irrompe sempre nella storia come una protesta ineludibile. Cultura, protesta ineludibile è una proposta sconvolgente, come giudizio radicale come una parola che fa saltare in aria gli schemi del passato e fa tremare di rabbia e paura tutti quelli che su quegli schemi continuano a poltrire e a lucrare stipendi e posti di potere. Quindi la critica bella forte, lo sentite il pensiero critico, la cultura quando è viva è sempre cultura critica dell'esistente. L'esistente è ormai morente, è il vecchio uomo che sta lasciando il posto alla nuova umanità e abbiamo quindi bisogno di una nuova cultura. La vecchia cultura è ben descritta qua, l'ennesimo festival, festa, fiera, salotto, baracone, sacra, sacra della filosofia, matematica, libro, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno di qualcosa di sconvolgentemente nuovo. Allora, queste culture dominanti che riempiono tutti gli spazi della comunicazione, le culture morenti, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, ci offrono oltretutto una rappresentazione del mondo e della realtà che è sempre più sconnessa dall'esperienza concreta delle persone. Quindi abbiamo una cultura, la cultura del morente che è sempre più sconnessa dal vissuto delle persone. Ci stiamo abituando a vivere in una schizofrenia implicita e globale. Quindi stiamo abituandoci a vivere dentro questa spazzatura culturale che ha un correlato psichico nella schizofrenia, schizofrenia. A vivere un linguaggio pubblico, lavorativo e culturale del tutto uscisso dalle nostre emozioni. Siamo uscissi, siamo autistici, siamo distaccati da noi stessi, siamo schizoi, scissi da che cosa? Le nostre emozioni, dalle sofferenze dei nostri corpi, dai nostri palpiti terrestri. Stiamo cioè costruendo una vera propria cultura extraterrestre, un mondo virtuale che vive di vita autonoma. Questo scollamento crescente tra la dimensione pubblica e quella personale, tra circuito mediatico e drammi interiori, cioè c'è quello che viene la narrazione mainstream delle televisioni, la narrazione di giornali, la narrazione di mass media, è totalmente scollata dei drammi interiori. C'è uno scollamento tra video e pancia, tra politica e corpi, tra ciò che mi dicono che mi deve interessare. ma lo dicono devi interessarti di questo. Ma che cosa ti occupi? Cosa ti occupi dei tuoi problemi interiori? Ma che sono stupidaggini? Guardati questo filmato, guardati questa serie televisiva, queta, mettiti calmo. Quindi mi chiedono che mi deve interessare di cose per me rilevanti ormai e ciò che mi brucia dentro, che sto imparando a rimuovere in abissi psichici e somatici sempre più inconsci. dunque ciò che mi brucia dentro, che sto imparando a rimuovere in abissi psichici e somatici sempre più inconsci, questo divorzio tra anima e mondo è la cosa più impressionante e più pericolosa del nostro tempo. E infatti essere schizofrenici collettivamente è impressionante ed è la cosa più pericolosa. Ho sempre detto che il neoliberismo, cioè la cultura economica contemporanea, il neoliberismo neoliberismo porta all'estremo questo io bellico che si contrappone agli altri. Oggi bisogna diventare imprenditori di se stessi in competizione, in lotta con tutti gli altri e anche col nostro interno, cioè noi siamo una maschera che galleggia su un inconscio di cui non sappiamo nulla e che nemmeno vogliamo indagare e che ci dicono di non indagare perché è del tutto irrilevante. Noi in realtà ci stiamo trasformando quello che vogliono i neoliberisti è che ci trasformiamo in macchine che eseguono bene il loro compito in macchine che poi quando non funzionano più vengono buttate via. Così accade nel lavoro. Il lavoro noi siamo semplicemente delle macchine che vengono tenute finché funzionano. ma sono macchine che tenute in quel modo cioè molto maltenute perché i nostri corpi soffrono queste macchine così tanto maltenute vengono poi relegate nel mondo dei superflui degli esuberi i superflui sei superfluo superfluo sei un esubero non servi più esubero e quindi vieni escluso da che cosa? Da tutti i diritti non sei più nulla non hai nessun diritto perché non partecipi più al processo produttivo l'unica cosa che conta l'unica cosa che conta è produrre consumare al fine di incrementare la curva del profitto di chi? Di pochi sempre meno a carico di chi? del 99% della popolazione è infatti la cultura creativa che ha il compito di mediare continuamente tra le dimensioni profonde dell'anima e i linguaggi pubblici della politica e della società cioè capiamo questa frase è la cultura creativa cultura creativa che ha il compito di esattamente i termini che usa il sogno che ha il compito di mediare continuamente mediare continuamente tra i linguaggi pubblici e le profondità del nostro inconscio infatti dice è ripeto è infatti la cultura creativa che ha il compito di mediare continuamente tra le dimensioni profonde dell'anima inconscio qui anche detto anima stiamo parlando non dell'inconscio patologico ma dell'inconscio superiore vi richiamo il simbolo dell'oboide di Assagioli inconscio inferiore inconscio inferiore inconscio medio dove abita l'io e inconscio superiore dove abita il vero sé la vera anima ecco il compito della cultura è quello di fare da ponte tra questo livello che è il mondo della ragione il mondo delle istituzioni e il mondo interno appunto del linguaggio ordinario con i linguaggi inediti dell'inconscio superiore con i simboli con tutto ciò che fa sì che noi esseri umani compiamo questo passaggio eccolo qua qui ci troviamo negli inferi della coscienza nell'inferno qui ci troviamo una sorta di purgatorio qui l'inferno qui il purgatorio e qui finalmente il paradiso che lo si raggiunge quando abbiamo realizzato pienamente chi siamo cioè quando ci conosciamo pienamente e la piena conoscenza di sé non avviene solo lavorando su questo certo anche il livello inconscio va conosciuto bisogna conoscere le proprie ferite bisogna saperle sanare ma poi il grosso passaggio che va fatto è quello di riconoscere al nostro interno una voce che ci parla un qualcosa di inaudito che se ascoltiamo questa voce compiamo un passo in avanti nella consapevolezza di noi stessi del mondo e riusciamo a unirci all'umanità in un unico corpo è in fondo questo il grande messaggio messianico cristiano allora abbiamo perciò innanzitutto bisogno di contribuire a elaborare una nuova cultura del transito in atto una cultura della trasformazione antropologica del passaggio appunto dall'io bellico all'io relazionale sempre questo sempre tenete sempre presente questo schema l'io bellico la cultura del morente e invece l'io relazionale la cultura del nascente ok questa cultura inoltre deve essere teorica pratica c'è un pensiero che sappia incarnarsi in pratiche condivise tradursi in forme relazionali nuove quindi non una sola teoria fatta di concetti e quindi che può essere preda di astrazione intesa come distacco dalla realtà ma in teoria pratica e che appunto si traduce in appunto in pratiche condivise quindi non pratiche isolate pratiche condivise in gruppo in forme relazionali nuove di convivenza e non solo di conoscenza abbiamo bisogno in altri termini di una nuova cultura che possa proporsi simultaneamente come cammino concreto di liberazione personale e come progetto di trasformazione storica da vivere in comune quindi liberazione personale e trasformazione storica culturale da vivere in comune bene questo posso dire con gioia che è esattamente il cammino che stiamo seguendo in Uni Aleph perché conosciamo il pensiero di Guzzi e da lui tanto abbiamo imparato e abbiamo implementato questo tipo di lavoro pratiche condivise forme relazionali nuove di convivenza o a caso viviamo in una piccola comunità e tutti i giorni facciamo questo lavoro pratiche condivise di ascolto di se stessi in modo da confrontare che cosa noi ascoltiamo dentro di noi di evolutivo allora le donne e gli uomini del XXI secolo sono la spasmodica ricerca al di là degli specifici ovviamente utilissimi saperi sempre più tecnici e specialistici le donne sono la ricerca di una sapienza sintetica ecco ricche ritorna la sintesi di cui parlavamo prima la sintesi una sapienza sintetica filosofica artistica psicologica politica economica e spirituale al contempo ecco questi sono gli aspetti della sapienza sintetica che noi chiamiamo anche sapienza dialettica che mette in collegamento filosofia arte psicologia politica economia diritto spirito nel contempo capace di orientare la loro esistenza cioè questi uomini e donne del XXI secolo hanno bisogno di questa sapienza sintetica queste sono le lezioni contenute negli archivi uneale che hanno appunto tutte come scopo orientare l'esistenza degli esseri viventi umani di oggi dobbiamo e possiamo elaborare oggi un sapere che sia conoscenza e trasformazione conoscenza attraverso la trasformazione ecco questo vi ripeto andatevi a vedere l'archivio uniale e troverete che quello che stiamo facendo lì dentro è proprio una adesione a questo modo di pensare si apre perciò una straordinaria stagione di ricerca dobbiamo aprire inaugurare ovunque i laboratori della nuova cultura la cultura vivente spazi di critica itinerari formativi inediti scuole di nuova umanità reti riviste programmi radiotelevisivi che sappiano rovesciare la stagnazione ancora dominante nell'entusiasmo di ciò che nasce che siano cioè in grado di convertire questo insopportabile finire nell'eterno fiorire che nasconde ecco anche qui una frase molto sintetica straordinaria stagione di ricerca è una straordinaria stagione di ricerca porta a vivere con entusiasmo la vita a scoprire ogni giorno parti nuove di sé e a liberarsi degli ostacoli di ordine economico e sociale direbbe la costituzione sociale cioè culturale cioè cioè psichico tutti quegli ostacoli psichici che si trovano dove si trovano qui certamente nell'inconscio inferiore tutte le condizionamenti che originano dalle ferite emotive nelle nostre famiglie ma poi anche i condizionamenti che derivano dalle ferite che nascono dall'essere in questa situazione sempre l'io nostro continua a essere sotto il dominio di forze di cui l'io non sa nulla queste forze che oggi ci dominano sono interiorizzate per cui noi siamo i migliori collaboratori degli oppressori quindi qui abbiamo un piccolo numero di oppressori i quali è riuscito a alleare a se stessi al proprio progetto di oppressore le proprie vittime vi rinvio ai video che trovate sul nostro archivio sulla paranoia ecco la paranoia è proprio questa oggi viviamo in epoca di paranoia pensiero paranoide in cui noi abbiamo un'autopersecuzione come interiorizzazione della persecuzione esterna parliamo di una vera e propria rivoluzione antropologica che però a differenza della svolta del neolitico per compersi richiede la piena libera consapevole personale partecipazione degli esseri umani quindi a differenza per esempio della svolta del neolitico richiede la piena libera consapevole personale partecipazione degli esseri umani uno per uno cioè tutti noi dobbiamo partecipare a questa svolta cosa che non è mai capitata nella storia vi ho detto che nella storia questa svolta l'hanno compiuta sempre una esigua minoranza ecco perché il processo è così lente e faticoso non svolteremo mai in altri termini verso la nuova età se non lo desidereremo con tutto il nostro cuore se non ci impegneremo personalmente nei processi trasformativi che la svolta richiede ecco questo per esempio è un'indicazione molto forte nei confronti degli amici di Vox e di Unialef i quali lo devono sapere che se non c'è un vera e propria decisione revocabile di fare questa svolta impegnandosi personalmente non la faremo mai e a questo punto noi come umanità ci estingueremo ecco ecco perché questo straordinario passaggio epocal ci sta sconvolgendo tanto dentro quanto fuori sommuove come un vero e proprio terremoto tanto le strutture del mondo esterno quanto quelle dell'anima e si manifesta infatti già tutto il XX secolo tanto con le rivoluzioni politiche crolli di imperi catastrofi nazionali e guerre mondiali quanto con tracolli psichici pandemie depressive nevrosi ossessive psicopatologie della vita quotidiana e crisi di identità dilaganti ecco quindi c'è una descrizione del XX secolo che in poche righe fa un quadro della situazione da qui dobbiamo ripartire se desideriamo comprendere qualcosa di consistente intorno al problema dell'attuale sfaldamento di ogni identità umana l'attuale sfaldamento di ogni identità perché non siamo né in un punto né nell'altro siamo ancora una vecchia umanità morente sentiamo la sofferenza il dolore dentro di noi ma non ci siamo ancora decisi a compiere il passaggio essere uomo non è mai stato facile l'uomo infatti è abitato da un demone come diceva Eraclito da uno spirito infinito dentro la propria struttura fisica definita abbiamo un corpo e però dentro un'anima che aspira all'infinito per questo è costitutivamente lacerato per questo la sua identità non è mai niente di sicuro né di stabile non è mai un dato di fatto non è mai un terreno solido su cui abitare permanentemente cioè un animale un animaletto un cane un gatto un topo un scimpanzee un ornitorinco beh la loro identità la raggiungono tranquillamente non devo fare nulla perché i loro istinti li guida a completare il loro cammino noi esseri umani rimaniamo sempre agli inizi a metà strada rimaniamo sempre nell'inferno o nel purgatorio ma non raggiungiamo il paradiso l'essere umano ha sempre saputo di essere un compito per se stesso di essere un paradosso un piccolo e fragile animaletto che deve in ogni momento dare un significato al mondo come fare? scavando dentro il proprio animo quel mistero di sé che lo abita e lo inquieta quindi deve scavare dentro di sé per poter dare significato perché noi siamo l'unica specie che è cosciente di sé grazie al linguaggio ma questa coscienza di sé lungi da liberarci dall'ansia la cresce un animaletto si impaurisce quando c'è un pericolo fisico quando il pericolo fisico cessa ritorna quieto noi no perché i più grossi pericoli per noi non sono quelli fisici ormai ma sono quelli psichici cioè le paure le paure delle relazioni con gli altri ecco le paure delle relazioni con noi stessi non ci conosciamo abbiamo paura del nostro inconscio terribile paura abbiamo resistenze tremende a conoscerci questo dobbiamo sapere conosci te stesso fu perciò da del fin poi il maggior comandamento comandamento dell'uomo occidentale ma è lo stesso che risuona fin dalle origini della tradizione vedica hindu atmanam viddi conosci il tuo atman la tua anima te stesso appunto la tua vera identità vera identità ecco allora potremmo dire quindi che i popoli della terra abbiano costruito tutte le separazioni ripartizioni sociali ossia l'identità del re del sacerdote dello scriva del faraone e poi del greco del giudeo del patrizio del plebeio del romano e del barbero ma anche del capitalista e dell'operaio della casalinga e del barbone solo in quanto avevano dimenticato che è veramente l'uomo cioè noi abbiamo costruito l'identità dimenticandoci di chi veramente siamo cioè che siamo l'anima che siamo lo spirito che siamo il divino detto di noi abbiamo in altri termini edificato sulla dimenticanza della vera identità umana e universalmente unitaria cioè la nostra anima il nostro atman abbiamo in altri termini edificato sulla dimenticanza della vera identità umana immense violentissime costruzioni di identità di casta di cedo di classe di sesso di nazionalità di religione e ne abbiamo fatto quasi sempre strumenti per combatterci per asservirci per dominarci e schiacciarci vice del fondemente senza alcuna pietà mentre le grandi tradizioni spirituali rimanevano ai margini del mondo cioè le grandi tradizioni c'erano ma non erano mondo non facevano mondo il mondo lo faceva questa visione separativa disgiuntiva oppositiva di un'identità fatta per contrapposizione la vera identità di cui abbiamo parlato prima cioè quella relazionale quella comunitaria è stata nella storia riservata a pochissimi sapienti profeti e santi tanto ammirati quanto inascoltati o direttamente fatti fuori da Socrate a Gesù fino a San Francesco e a Gandhi allora le altre identità storiche le altre identità sono in realtà tutte belliche in quanto separano gli uomini e li contrappongono gli uni agli altri sostanzialmente in base a pregiudizi e prepotenze io sono nobile e tu sei prebeo io sono borghese tu sei proletario io sono un prete tu sei laico io sono cristiano tu sei infedele io sono tedesco tu sei ebreo io sono comunista tu sei reazionario io sono maschie tu sei femmina devi stare zitta a casa cucinare e così via quindi abbiamo creato tutte le figurazioni storiche di identità sulla contrapposizione è proprio questa figurazione complessivamente bellica dell'identità umana che oggi si sta dissolvendo già a partire dall'epoca moderna spesso portando le tensioni conflitti identitari fino all'estremo ma la domanda è in quale nuova figura umana si stanno trasfigurando tutte queste vecchie figure identitarie del mondo? normalmente gli studi sociologici considerano una fase evolutiva rilevante il passaggio dalle identità premoderne di ceto e stato a quelle moderne di classe prima infatti l'identità socio-culturale era determinata una volta per tutte dalla nascita per diritto di sangue quindi nell'identità premoderne l'identità era definita una volta per tutte per diritto di sangue alla nascita mentre in seguito questa identità doveva essere costantemente confermata e quindi è un po' più libera un po' più flessibile insomma un nobile veneziano del settecento come un membro appartenente alla casta braminica hindù rimaneva tale dalla nascita fino alla morte e invece un borghese del ventesimo secolo al contrario avrebbe potuto anche perdere il suo status sociale e ritrovarsi magari in povertà e chiedere l'emosina Jean-Paul Sartre lo disse con grande chiarezza si poteva essere declassati cioè un borghese poteva diventare un povero e finire a chiedere l'emosina però dice Marco Guzzi questa identità allora ve lo faccio vedere nel foglio avevamo quindi un'identità premoderna fondata su ceto e stato e quindi era dalla nascita e su questo non ci si tornava più solo con l'identità moderna e l'identità di classe tipo quella della borghesia che richiede ecco lì potevi essere avvocato lo notai quello che volevi ma però a un certo punto potevi perdere tutto e finire di marciapiedi quindi questa identità è un pochino meno solida dell'altra ma pur sempre abbastanza solida perché lo spiega qui bene Guzzi ricordo mio padre che era avvocato ed era nato nel 1919 per lui essere avvocato è una struttura molto precisa della sua identità significava aver studiato in determinati licei aver fatto il servizio militare in determinati regidimenti possibilmente di cavalleria abitare in determinati quartieri della città avere ben precise qualificate amicizie e addirittura vestire in un modo abbastanza definito tanto che riconosceva spesso i suoi colleghi prestata semplicemente in base al loro abbigliamento ecco quindi ripeto l'identità moderna è certamente meno rigida di quella premoderna ma mantiene ancora una certa solidità ecco e invece le società occidentali di oggi le cose stanno ulteriormente cambiando Zygmunt Bauman parla perciò del passaggio da una modernità solida a una postmodernità o modernità liquida in cui le stesse strutture borghesi vengono liquidate dal processo di mobilitazione sociale ora che cosa succede esattamente succede che oggi il vero centro dell'identità diventa il nostro autos eccolo mentre qui il centro della nostra identità è il ceto nell'identità moderna abbastanza solida della classe l'identità moderna postmoderna è liquida cioè noi possiamo assumere un po' tutte le forme possibili ecco e il nostro centro è realizzare se stessi sembra che siamo nell'età in cui realizziamo il comando di Delphi si te stesso conosci te stesso ecco ma è qui che dobbiamo fare molta attenzione le culture postmoderne puntano con forza e determinazione verso questa forma tutta costruita e volubile cioè liquida dell'identità umana da Derrida ad Habermas si concepisce soltanto un'identità sostanzialmente creata da l'uomo stesso ecco e ogni passo di destrutturazione dell'identità tradizionale e naturale viene applaudito è visto come un passo verso la libertà quindi mi costruisco da solo e quindi è un passo verso la libertà e l'eguaglianza e ancora di più verso l'autenticità ecco i Guzzi però fa una critica a mio avviso centrale il che in parte è anche vero ma ma ecco il ma ma queste tendenze che pretendono di parlare appunto in nome della vera autenticità umana non ci spiegano poi quasi mai che cosa e chi siamo chi sia questo autos questo se questa identità appunto più vera in nome della quale ci dobbiamo ritenere più liberi perciò l'autenticità umana ronda non radicata in nessun autos in sé consistente rischia di finire poi per concidere con un puro arbitrio autarchico dei piccoli io rissosi e prepotenti mossi in realtà quasi del tutto etero diretti anche nelle loro libere scelte elettorali e politiche dalle pulsioni più epidemiche e meccaniche dai peggiori automatismi psichici o semplicemente dalla pubblicità in altre parole ci siamo liberati dalle vecchie catene identitarie e ci siamo cacciati in catene identitarie ancora peggiori cioè la pubblicità è la pubblicità che forma oggi la nostra identità altro che autonomia qui siamo alle soglie della società apertamente ademocratica e post democratica come aveva previsto un liberale come Ralph Darendorf l'autenticità detta in questo modo finisce col concidere con l'espressione di un'emotività forzata infantile per questo che noi in Aleph diciamo normalmente le persone hanno un'età emotiva di tre anni di quattro anni e magari dirigono una grande azienda o dirigono uno stato ecco emotività forzata infantile altro che autenticità essere autori della propria vita qui i veri autori sono scribacchini al servizio dell'ufficio commerciale di Mediaset o della Rai gli ultimi uomini insomma previsti con scommetto da Nietzsche quindi questi presunti uomini autonomi autoformati liberi in realtà sono posseduti da un'emotività forzata infantile e sono in realtà guidati dalla pubblicità quindi molto più schiavi dei loro nonni contadini e molto più volgari insipienti e privi di dignità dei loro padri operari insomma senza che senza un trascendimento evolutivo verso una figura nuova e più integra di umanità cioè senza un cammino vero verso la nostra anima il disfacimento dell'identità tradizionali ci porta soltanto verso il nulla e la disintegrazione sociale ok quindi cosa dobbiamo fare gli uomini e le donne del ventunesimo secolo dovranno imparare a riconoscere se stessi come intrinsicamente aperti tutti insieme allo stesso principio spirituale cioè ci vuole un principio spirituale in cui ci riconosciamo e per questo sostanzialmente uniti e sempre in relazione io relazionali gli uni con gli altri e con tutto il creato è infatti proprio questa apertura relazionale la sostanza post bellica della nostra natura la fonte di quell'unità e di quella pace che tutti invochiamo ecco lo stesso Bauman che spesso è stato frainteso dice oggi siamo in tempi in cui o nuotiamo tutti insieme o anneghiamo tutti insieme per la prima volta nella storia dell'uomo l'interesse personale e i principi etici di rispetto e aiuto puntano nella stessa direzione richiedono la stessa strategia cioè richiedono le stesse pratiche evolutive le stesse pratiche di conoscenza di se stessi il lavoro psicologico etico spirituale di cui ci occupiamo noi in Unialef e in cui si occupa Marco Guzzi nel movimento Darsi Pace e questo tipo di pratiche ve lo ripeto ancora una volta è implicitamente previsto come obbligatorio obbligo giuridico nella nostra Costituzione all'articolo 3 e con questo vi saluto e vi auguro ogni bene di un'articolo